La unica usano ternana dunque vuol dare un segnale forte continuando la tradizione che vede Norcia, città dello sport, sede di numerosi ritiri sportivi, dalla scherma al calcio passando per il basket, la pallavolo ma anche per ritiri di arbitri e di arti marziali. I rossoverdi sono in ritiro nella capitale della Valnerina dal 10 luglio fino al 5 agosto. Un lungo ritiro come non se ne ricordano da tempo, viste le tournee che oramai impegnano le squadre durante la preparazione stila. Piazza e la distribuzione dei palloni ai bambini di Norcia da parte dei loro avversari del pomeriggio, i calciatori della ternana. Abbiamo fortemente voluto questa giornata, questa giornata di festa ma soprattutto questa giornata di ritorno alla normalità, di ritorno alla Norcia prima purtroppo dell'evento che non vorrei neanche rinominare. Quindi il nostro impegno nel nostro piccolo è stato quello di tentare nella ricostruzione economica di questa splendida città.